ciao a tutti lo so lo so che si parla sempre del mini 3 l'ho ordinato anche io da personal drones ringrazio vittorio menna che me lo ha messo da parte però io ne potrò parlare solo quando mi arriverà nel frattempo vi vorrei parlare di un una questione che ho annunciato nella con un post nella community del del mio canale questa informazione è passata un po in sordina ma sono certo che piano piano con l'andare del tempo prenderà sempre più piede conoscete tutti che cos'è l'aeroscope cioè quel sistema che ha inventato la dji per trasmettere spontaneamente le informazioni dei droni mentre volano in particolare della posizione il numero di serie del drone e qualche altra informazione complementare in più sempre grazie a questo sistema denominato aeroscope anche il radiocomando invia la posizione e quindi si può sapere perfettamente la posizione di chi comanda il drone dunque tutte queste informazioni che vengono inviate in aria possono essere ricevute solo ed esclusivamente da un sistema creato anch'esso da dji denominato aeroscope in particolare un ricevitore fino a poco tempo fa si pensava che le informazioni inviate dal drone spontaneamente quindi queste posizioni fossero affogate all'interno del protocollo ocu sync e anche criptate quindi l'unico modo per riceverle era appunto acquistare questo aeroscope abbiamo visto anche alcuni video in cui si parla di utilizzo dell'aeroscope da parte delle forze dell'ordine proprio per tenere traccia dei droni non autorizzati dell'aeroscope se ne è parlato tantissimo anche durante la guerra in ucraina questo perché i soldati ucraini erano preoccupati che i russi potessero tracciare i loro mavic 3 che venivano utilizzati appunto per guardare le postazioni nemiche e così i soldati ucraini hanno chiesto a dji se era possibile in qualche modo disabilitare questo invio di informazioni di uid e ovviamente dji ha detto no non è possibile insomma conoscete tutti quanti la diatriba che c'è stata nello stesso momento si è anche detto queste informazioni sono criptate e c'è bisogno per forza del aeroscope per riceverlo quindi significa che i soldati russi avevano tanti aeroscope che potevano essere potevano tracciare in realtà durante la guerra c'è stato qualcuno che ha detto ma controlliamo un po meglio come funziona questo invio dei dati è vero che sono criptate le informazioni bene un famoso nell'ambito nel campo studioso di criptazione ha detto attenzione io ho analizzato il codice che viene inviato tramite le radio e i droni e a me non sembra affatto che siano criptate anzi sono esattamente in chiaro non sono incapsulate all'interno della chiave pgp e quindi si è scaturito un via via di informazioni tra persone che si occupano di trasmissioni radio e quindi di decodifica di segnali radio e esperti di sicurezza informatica e così è nato un gruppo e poi da questo gruppo è nato un embrione di un software e effettivamente si è visto si è potuto analizzare non solo il protocollo ocu sync 2.0 vi ricordo che l'ocu sync 1.0 è stato prima decodificato e poi rilasciato alla comunità da parte di dji adesso sta succedendo più o meno la stessa cosa cioè è stato analizzato e in particolare ci si è concentrati proprio sul cosiddetto drone id e quindi questo gruppo di lavoro sta portando avanti un software che prima o poi verrà rilasciato quasi sicuramente su github per cui si inizia a ricevere il drone id quindi l'aeroscope che era una prerogativa solo ed esclusiva di dji in realtà sta diventando una cosa della community significherà che tutti i i droni e radiocomandi potranno essere ricevuti da chiunque con una semplicissima chiavetta sdr potrà essere ricevuto un drone quindi io mi aspetto che prima o poi chiunque potrà ricevere le informazioni di tutti quanti i droni del resto non sono droni militari dobbiamo capirlo non devono essere utilizzati per scopi militari e nemmeno devono essere utilizzati per scopi fraudolenti o andare in zone dove non si può volare quindi io non ci vedo nulla di male che chiunque sappia che siano che sono in volo dei droni e dove si trova il l'operatore in questo momento e quindi tirando le somme probabilmente nel futuro avremo ognuno di noi potrà avere il suo piccolo aeroscopo perlomeno qualcuno che è appassionato di ricezione dati digitali sarò un bene sarò male lo deciderà tutta la community e niente che altro dirvi un saluto e ai prossimi video